Lei si è appena svegliato dopo un incidente. Come sto? Ha solo una ferita a una gamba. Posso vederla? La gamba si trova nell'altra ambulanza. Cosa ci fai in una pentola, Franco? Bollo! La mia cavalla è incinta, ora corre più veloce. Come vai? Perché ha il doppio dei cavalli. Ti va di giocare a briscola? Sì, sono carico.